Blitz al Rione San Giuliano, operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Trapani che ieri sera hanno eseguito quattro arresti. E questa è la nostra notizia del giorno. Una piazza di spaccio è stata smantellata dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani che ieri sera hanno eseguito un blitz antidroga nel popolare Rione San Giuliano, nel territorio di Erice Casa Santa. L'operazione è culminata nell'arresto di quattro persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette, secondo alcune indiscrezioni, anche una donna in stato interessante, compagna di uno dei quattro indagati. Il quartiere è stato circondato dai carabinieri per impedire ai destinatari delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale e del Capoluogo ogni possibile via di fuga. Nel Rione Blindato nessuno poteva né entrare né uscire. Nell'attività è stato impiegato anche un elicottero. I militari dell'arma hanno effettuato diverse perquisizioni sequestrando droga e denaro contante, ossia il provento dell'attività di spaccio realizzata in un rione dove già in passato erano state perpetrate importanti operazioni antidroga. Ieri sera, un nuovo capitolo, gli investigatori hanno inferto un altro durissimo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia leggere, sia pesanti. Un fenomeno che continua ad essere ben radicato nel territorio, nonostante l'incalzare delle forze dell'ordine e della magistratura e che coinvolge spesso i quartieri popolari con un'elevata presenza di pregiudicati che sbarcano in lunario, vivendo di espedienti non sempre leciti. Quartieri trasformati in vere e proprie roccaforti della droga. Termina qui il nostro spazio dedicato alla notizia del giorno. Naturalmente tra pochissimo tutte le altre notizie. Vi aspetto. Il market della coca. Un tunisino è stato arrestato dalla polizia di Alcamo. Deteneva cocaina e hashish nella sua abitazione. Sì, ai nuovi loculi, sbloccate le procedure, ne saranno realizzati 440 al cimitero di Valderice. Già pubblicato l'avviso di Project Fennizing. Lotta agli incivili, pugno duro alle egadi contro chi abbandona i rifiuti per le strade. La forza del teatro in scena al Don Bosco, vite private di Rosaria Bonfiglio. E poi lo sport, vogliamo vincere tutto. Alfio Torrisi, mister del Trapani Calcio, intervenuto oggi in conferenza stampa per la presentazione del match col Portici, ha parlato degli obiettivi della squadra. Un esercito di disperati. Sono circa 117 mila i siciliani ai quali è stata respinta la domanda per l'assegno di inclusione dopo la soppressione del reddito di cittadinanza. Ne parleremo oggi nel nostro spazio dedicato all'approfondimento. Buongiorno da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. Apriamo questa parte del Tg con la cronaca. Un arresto per droga è stato eseguito dalla polizia di Alcamo. La sua casa era diventata meta di giovani conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti e quel via vai di certo non è passato inosservata la polizia. Così ad Alcamo è scattato il blitz con l'ausilio di unità cinofile e culminato nel sequestro di un cospicuo quantitativo di ascice e cocaina ad immettere la droga sul mercato un tunisino già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Al ritrovare la droga è stato Ulla, un pastore tedesco del reparto cinofili della polizia. Circa 60 grammi di ascici e 16 grammi di cocaina di cui buona parte è già confezionata in 13 involucri di cellofan pronti per essere spacciati. Sequestrate anche manconote di piccolo taglio. Il tunisino è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Frattanto le indagini proseguono per verificare se il nordafricano nell'attività di spaccio agiva da solo o se al contrario si avvaleva di eventuali complici. Non c'è scudo e pertanto che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi. Torniamo a parlare del giallo a Valderic. È stata disposta l'autopsia per fare luce sul decesso della donna trovata morta nella sua abitazione. Sarà l'autopsia dare una risposta al giallo di Valderic accertando le effettive cause del decesso di una donna sposata e madre di un figlio. Antonella Larussa di 54 anni è morta in circostanze ancora tutte da decifrare nella sua abitazione di via Nettuno nella frazione di Bonagia. Anche se l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore. Il sostituto procuratore Francesco Urbani ha disposto l'esame medico-legale. A dare l'allarme è stato il marito Piero Corsino. L'uomo originario di Mazzara del Vallo ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. Quando sono giunti gli operatori sanitari del 118, Antonella Larussa però era già deceduta. Sono così arrivati i carabinieri per seguire i rilievi e il medico-legale. La strada è stata chiusa. L'ispezione cadaverica non avrebbe riscontrato segni di violenza sul cadavere. Il magistrato però vuole vederci chiaro e ha disposto l'autopsia. Antonella Larussa, trapanese, soffriva di crisi epilettiche. Sembra che di recente il rapporto con il marito, che è un geometra, si fosse inclinato. Piero Corsino è stato ascoltato dai carabinieri a segno a figlio. Santino, di vent'anni. L'allarme di Federalberghi Trapani sul problema della siccità, il governo trovi una soluzione. L'emergenza idrica a Trapani ed in Sicilia va risolta al più presto. Non possiamo rischiare di avvicinarci all'estate e chiedere ai turisti di razionare l'acqua. Sarebbe una follia. La presa di posizione categorica è di Federalberghi Trapani. Prima il problema viene risolto e meglio è, afferma il presidente degli albergatori della provincia di Trapani, Antonio Marino, perché Trapani è meta turistica internazionale. Mi auguro che il governo aiuti la regione siciliana a trovare una soluzione immediata. Non possiamo perdere tempo. Il tempo è prezioso, così come l'acqua. Il problema, in effetti, è diventato serissimo. Tutto il centro storico di Trapani, e non solo, è costretto ogni giorno a comprare autobotti d'acqua, soprattutto attività ricettive alberghiere e ristoranti. Siamo solo ad aprile e non tutte le nostre strutture hanno già raggiunto la piena occupazione, rimarca Marino. La situazione può soltanto peggiorare. Non abbiamo alcuna certezza circa i tempi di risoluzione del disservizio da parte dell'amministrazione pubblica. E ad aggravare la situazione, precisa a Federalberghi, la decisione dell'amministrazione comunale di Trapani di aumentare l'imposta di soggiorno, quasi raddoppiandola in alcune tipologie di strutture. Marino Chiosa, in merito così, sarebbe opportuno richiedere al Comune il rimborso delle spese per l'acquisto di acqua privata, o meglio ancora, imporre che il prossimo versamento dell'imposta di soggiorno venga effettuato al netto delle nostre spese extra sul costo dell'acqua adeguatamente rendicontate. Il cimitero di Valderice si appresta a rifarsi il look, quantomeno in parte. Vediamo il servizio. Che fosse necessario intervenire era evidente e anche la minoranza consigliare lo aveva sottolineato più volte in aula e fuori dall'aula. Adesso, finalmente, sono state sbloccate le procedure per il cimitero comunale di Valderice. In queste ore è stato pubblicato infatti il tanto atteso avviso di Project Financing per la realizzazione dell'ampliamento del XIX padiglione cimiteriale che garantirà la disponibilità di 440 nuovi loculi. Il sindaco Francesco Stabile prontamente sottolinea il risultato ottenuto. La mia amministrazione afferma è solita dare risposte concrete e lavorare su progettualità fattibili. Non perseguiamo programmazione di corto respiro, come l'opposizione artatamente si ostina a millantare, senza conoscere minimamente le procedure burocratiche e amministrative necessarie per arrivare alla risoluzione del problema, salvo poi tentare di scopiazzare emendamenti di bilancio già redatti dalla maggioranza. Una stoccata alla quale ne segue una ulteriore nei confronti di Di Gregorio e compagni. Il sindaco Stabile la dà precisando che proprio oggi, nell'attesa della definizione dell'affidamento dei lavori e successivo completamento, la Giunta Municipale ha deliberato l'approvazione di un ulteriore progetto con somme a carico del bilancio comunale che prevede la realizzazione di ulteriori due nuovi padiglioni per un totale di 115 posti, in modo da prevenire l'urgenza per esaurirsi dei loculi a disposizione. I lavori di questi ultimi verranno affidati, dice Stabile, già nelle prossime settimane. Opposizione consigliare che ovviamente non sta zitta, risponde Pamper Focaccia. Aveva tutto pronto cinque anni fa, dice Massimo Di Gregorio. Doveva solo copiare ciò che era giunto a Spezia, aveva fatto con innegabili risultati. L'incapacità di programmare il futuro per evitare a distanza di qualche anno di continuare con il pietoso spostamento di Salme è del tutto evidente. I primi a rendersene conto, afferma Massimo Di Gregorio per conto della minoranza consigliare, sono le numerose famiglie che sono state e che vengono interessate da anni dalle traslazioni costate alle casse comunali centinaia di migliaia di euro. Somme che potevano invece essere impiegate per realizzare nuovi loculi, sia prefabbricati che nel 19esimo padiglione. Abbiamo assistito invece inermi a cinque anni di immobilismo. Al di là delle scaramucce politiche che lasciano il tempo che trovano, va sottolineato il fatto che il Camposanto Valdericino finalmente potrà essere ampliato. Il resto rientra nel gioco delle parti. Ci prendiamo solo una brevissima pausa. lotta agli incivili, pugno duro a Lega di contro chi abbandona i rifiuti per le strade. La forza del teatro in scena al Don Bosco, vite private di Rosaria Bonfiglio. E poi lo sport, vogliamo vincere tutto. Alfio Torrisi, mister del Trapani Calcio, intervenuto oggi in conferenza stampa per la presentazione del match col Portici, ha parlato degli obiettivi della squadra. Sono in aumento i numeri che parlano dell'abbandono dei rifiuti nelle isole Egadi. Il sindaco Francesco Forgione lancia un appello alla cittadinanza. Vediamo. Nelle ultime settimane la bellezza incontaminata e pura delle isole Egadi si sta trovando di fronte a una crescente minaccia, l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Il sindaco Francesco Forgione ha sollevato un allarme evidenziando un aumento significativo di un comportamento dannoso tanto per l'ambiente quanto per la comunità locale. Oltre a deturpare il paesaggio naturale, l'abbandono di rifiuti mette a rischio la flora e la fauna locali, compromettendo anche il settore turistico ormai prossimo alla nuova stagione e vitale per l'economia dell'area. Il sindaco ha quindi lanciato un appello urgente alla cittadinanza invitando ogni singolo individuo a contribuire attivamente alla lotta contro questo fenomeno. Siamo all'inizio della stagione estiva e in tutte e tre le nostre isole, la Favignana, l'Evans e Maretto, c'è un'impennata del fenomeno esecrabile dell'abbandono dei rifiuti lungo la costa, lungo le strade, nelle vie del centro. Chi si colpisce se si fa questo? Si colpisce l'immagine delle nostre isole? Si colpisce il diritto alla salute dei cittadini? Abbandoni continui, rifrutti ovunque. Noi non facciamo appello alla repressione, benché abbiamo dato mandato alla Polizia Municipale di colpire duramente chi viene scoperto a commettere questo che è un reato. Ma facciamo appello al senso civico, all'amore che ognuno di noi deve avere per queste isole. Non credo che facendo questo si colpisca un'amministrazione comunale. Si colpisce la bellezza dei nostri territori. Facciamo appello a tutti i cittadini a collaborare. Molte abitazioni sono in ristrutturazione in questo periodo. Non è possibile che le imprese o i proprietari delle case abbandonino i detriti prodotti lungo le nostre coste o nelle cave. Facciamo un appello, quindi. Ognuno di noi rispetti con amore il proprio territorio, le proprie isole e la propria bellezza. Ne va della qualità della propria vita e anche dell'immagine che diamo a tutti quelli che decidono di visitare il nostro arcipelago da oggi fino alla fine della stagione turistica. Si è tenuto questa mattina il 25esimo campionato di Oriente Ring, un'azione educativa finalizzata a utilizzare il territorio come aula e palestra verde. Vediamo. Chiara Conticelli. Si chiama Oriente Ring la palestra verde, il progetto che ha promosso il 25esimo campionato è riservato a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della regione Sicilia, che si è tenuto questa mattina per la prima volta a Trapani. Nasce dal fatto che io, essendo il delegato provinciale, ci tenevo molto ad avere Trapani come sede di queste gare di orientini, che la maggior parte di queste gare si svolgono nella Sicilia orientale. Quindi, veramente, ho fatto di tutto per fare un minicircuito in zona, quindi Trapani, Alcamo e Castellammare. L'orienting è uno sport semplice perché è una corsa orientata. Loro hanno una mappa, ognuno ha un tracciato per categoria, devono passare per dei punti di controllo che si chiamano lanterne, sono dei prismi triangolari, è un punzone attaccato, punzonano un testimone che praticamente evidenzia che sono passati con la lanterna e venire all'arrivo. Vince la gara che fa il tempo più breve possibile. Se è stata una lanterna invece viene squalificato, non viene penalizzato, quindi bisogna fare tutte le lanterne per forza. Un'iniziativa originale con l'obiettivo di far conoscere il territorio come aula e palestra verde e che proprio per questo ha ottenuto immediatamente il patrocinio del comune di Trapani. Un'iniziativa nuova per la nostra città che abbiamo sposato immediatamente. Devo dire che fa piacere vedere sempre più giovani interessati in qualche modo a una disciplina sportiva sconosciuta a molti a Trapani. Ma in generale siamo davvero felici della massiccia partecipazione e siamo convinti che sia la prima di una lunga serie di iniziative. All'evento hanno partecipato tanti studenti da tutta la provincia che tra la ricerca delle lanterne hanno potuto conoscere in maniera più approfondita la città di Trapani. Allora è stata una bellissima esperienza soprattutto per la competizione che è stata una competizione sana e poi soprattutto per scoprire questa città perché è anche un'opportunità per la scoperta di Trapani che è comunque una bellissima città. Sicuramente ne è valsa la pena, non è la prima volta che partecipo ma ho partecipato già un'altra volta a Castellammare. Sono delle belle iniziative che anche come stacco dalla scuola, dall'attività didattica in sé per sé, sono ottime. Ieri al Teatro Don Bosco di Trapani è andata in scena la toccante interpretazione di Rosaria Bonfiglio resa ancora più intensa da un monologo in dialetto siciliano nella rappresentazione di vite private ispirate a Rita Atria e Margherita Asta. Il Teatro Don Bosco di Trapani ha ospitato ieri mattina la rappresentazione di vite private, opera teatrale scritta ed interpretata dall'attrice trapanese Rosaria Bonfiglio. La pièce, liberamente ispirata alle vite di due donne siciliane, Rita Atria e Margherita Asta, ha emozionato il giovane pubblico studentesco attraverso le vicende di queste due figure tanto diverse quanto legate dal destino e dalla tragica storia della mafia. Il mio lavoro nasce dalla necessità e dalla volontà di raccontare due storie di due famiglie diversissime, quella di Rita Atria e di Margherita Asta, una famiglia di mafiosi e una invece vittima di mafia. Entrambi sono vissute nel 1974, sono nate nel 1974 negli anni in cui ho vissuto, quindi questo lavoro nasce dalla voglia di raccontare le loro storie, i loro anni più spensierati, i loro affetti più cari, ma anche la voglia e il coraggio di cambiamento. Attraverso i personaggi di Giovanna Canova, Rita Atria, Margherita Asta e Claudia, giovane studentessa, il pubblico è stato trasportato tra ricordi dolorosi e momenti di spensieratezza, accompagnato dalle voci e dalle musiche di sottofondo che hanno reso l'esperienza teatrale ancora più convolgente. Sono dei personaggi che, come ho detto, mi rappresentano, perché anche io sono vissuta in quegli anni, quindi ho messo molto di me nei personaggi, molto, un po' di me e quindi racconto la rabbia di una mamma, che può essere Giovanna Canova, le speranze di Rita Atria, il coraggio e la voglia di lottare di Margherita Asta. Vite private non si limita alla semplice rappresentazione teatrale, ma si propone anche come strumento di sensibilizzazione e riflessione, soprattutto per le nuove generazioni. L'opera sarà in tournée nazionale nelle scuole d'Italia con l'obiettivo di convolgere sempre più giovani nella riflessione sulla memoria e sulla lotta alla mafia. La prossima settimana saremo a Settimo Torinese e Mariano Comense. L'opera è la produzione di Sound Power Service di Antonio Colomba. Siamo attualmente in tournée nazionale, siamo già stati a Teramo, nelle scuole di Trapani. Abbiamo messo la pièce a disposizione degli istituti industriali, oltre che il bufalino dove siamo stati ieri. Ma anche della Simone Catolano. Prossimo anno speriamo di essere in più scuole e ci riproporremo per la settimana del Non ti scordare di me. Quindi in memoria dei gemelli Asta e della loro mamma Barbara Rizzo. E anche per ricordare che Margherita sta ancora continuando a lottare per la mafia. Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente in diretta alle 21 e poi anche replica alle 23. Torna Respubblica Sicilia Chiama Europa in studio con il nostro direttore Nicola Baldarotta, come potete vedere dalla nostra locandina, il mister del Trapani Calcio Alfio Torrisi e Paolo Cericola, responsabile della comunicazione della Sport Invest, che risponderanno anche alle domande e alle curiosità che arriveranno sulla nostra piattaforma social. Quindi appuntamento alle 21. E adesso ci fermiamo soltanto per una breve pausa e poi torniamo con lo sport. Eccoci qui puntuali con lo sport, apriamo col basket. Essendo la migliore prima, la Trapani Shark ha potuto scegliere la data d'inizio dei play-off del tabellone argento. I Granata scenderanno in campo per gara 1 dei quarti di finale contro l'ottava classificata del Girone Rosso sabato 4 maggio al Palashark. Vi ricordo che la serie sarà al meglio delle cinque partite. Andiamo invece al calcio perché il Trapani domenica scenderà in campo alle 14.30 al Portici a dirigere la partita che è valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie D. Sarà la signora Deborah Bianchi di Prati, i suoi assistenti Davide Tranchida di Pisa e Lorenzo Guiducci di Empoli. Nonostante ovviamente la promozione in Serie C sia arrivata con anticipo, mancano ancora quattro giornate ufficiali al termine del campionato di Serie D. Domenica il Trapani, come vi dicevo, sarà impegnato a Portici. Stamattina a conferenza stampa è intervenuto mister Alfio Torrisi a presentare il match. Sicuramente una settimana diversa perché ci ha dato la prima settimana obiettivo raggiunto per il quale si è lavorato all'inizio stagione, però ancora una volta questa squadra ha dimostrato grande professionalità, ha dimostrato grande maturità perché ha lavorato con dedizione e con impegno consapevoli che abbiamo ancora quattro partite a giocare, che ci sono 12 punti a disposizione, che abbiamo un'imbattibilità da cercare a tutti i costi e in tutti i modi di mantenere, abbiamo qualche piccolo obiettivo di cui ne andiamo fieri, compreso essere la miglior difesa d'Italia e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di lavorare bene in settimana per cercare di congelare questi obiettivi che possiamo raggiungere e soprattutto per cercare poi di farsi trovare pronti quando inizierà la Pusco Detto, la Coppa Italia e non è che siamo dei robot che stacchiamo la spina e poi l'attacchiamo, quindi dobbiamo tenere questa intensità con più spensieratezza sicuramente perché non abbiamo, tra virgolette, la pressione dell'obiettivo da raggiungere, però la professionalità non possiamo perderla, la voglia e la fame di vincere e di incidere ancora una volta in quanti più obiettivi e magari record possibili, dobbiamo sicuramente lavorare sull'ambizione che è la cosa più importante e per fare questo ci ho la testa. Da percettori del reddito di cittadinanza ha disoccupati senza nessuna entrata e la parabola che riguarda tantissimi siciliani, circa 117 mila a cui è stata respinta la domanda per l'assegno di inclusione che è quella misura che sostituisce appunto il reddito di cittadinanza, ce ne occupiamo nel nostro approfondimento di oggi. Io mi chiedevo quando ero ragazzo come fa una persona a ridursi sotto i portici a dormire con i cartoni, con i materassi, con i cani, ma lo chiedevo perché è una cosa fuori dai miei pensieri. Ora so come si può finire in queste condizioni. Lui è Giovanni, 57 anni, palermitano e tra i 300 mila a cui è stata respinta la domanda per l'assegno di inclusione, la misura che sostituisce il reddito di cittadinanza. Da percettore di reddito ha disoccupato, senza più nessuna entrata e fra qualche mese anche senza casa. Io all'agosto non avrò cosa dare al proprietario come affitto. Le domande per l'assegno di inclusione respinte dall'Inps sono al momento più di 300 mila in tutta Italia. 117 mila in Sicilia a determinare il rigetto della domanda è stato nel 50% dei casi la mancanza del requisito del reddito familiare conforme ai termini di legge. Se quindi prima con il reddito di cittadinanza la platea di chi ne beneficiava era molto più ampia, con la nuova misura si è ridotta di circa il 40%. Ma che misura hanno fatto? Hanno fatto i poveri, più poveri e ricchi diventeranno sempre più ricchi. Perché io ho una persona di 51 anni, mia moglie ne ha 49, mi devono dire loro dov'è il lavoro a Palermo. Per Palermo ci sono soltanto 13 offerte di lavoro, collegandoci sulla piattaforma Sisle che dovrebbe collegare la domanda e l'offerta di lavoro, vediamo che sono soltanto 13, come dicevo, addirittura i disoccupati a Palermo sono oltre 40 mila. Se appoggi a vedere il dato per la Sicilia, per la nostra regione, vediamo che le offerte di lavoro sono soltanto 40 con oltre 260 mila disoccupati. Negli ultimi due mesi, anzi negli ultimi tre mesi, campo grazie al, non dico all'emosina perché è brutto dire l'emosina, grazie all'intervento della mia ex moglie che mi elargisce quei 100-200 euro al mese per poter pagare le bollette e fare un po' di spesa. Ogni tanto la mangio a casa sua. Io non so, in questo momento non ho nessuna entrata, l'unica cosa, il problema che ho io ogni tanto vado da mia madre e mia madre mi dà la carta di 50 euro per potermi fare un po' di spesa.